Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, oggi ho il piacere di presentarvi la replica del primo episodio che è andato in onda su Twitch, la casa delle tragedie, il nostro reality fatto con i fan. Sì ragazzi, i concorrenti siete proprio voi e se volete partecipare ai prossimi episodi dovete assolutamente seguirmi su Twitch e partecipare alla live. Guardate il video fino alla fine perché non ve ne pentirete. Grazie a tutti. Questo non so che cos'è, vediamo che cosa succede. Gli sto ridando la cheesecake secondo me, raga. Gli sto facendo mangiare la sua cheesecake. No, 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 non l'ammazzare, non l'ammazzare, no, 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 lasciamola viva, non l'ammazzare, è morto. Oddio è arrivata pure la morte, la morte col tablet, raga, ma la morte col tablet, ma viva la... No, guardate, no, fa impressione, ragazzi, questa live è family friendly, comunque volevo provare la morte. Non sono stata, io sono stata fatalesa. Ah, hai chiamato la polizia, fatalesa! Hai chiamato, mi sono distratto un attimo, hai chiamato la polizia! Ragazzi, hai chiamato la polizia! In che senso hanno chiamato la polizia? No, queste mi arrestano, scappa, scappa! Patalesa ha chiamato la polizia! Ma sei una traditrice, patalesa! Raga, è la polizia! Ma che fai? Patalesa, non fare la spia! No, mi stanno arrestando, raga! Eh, salve! Conviene posare quella pistola? Io direi di posare la pistola, amici, siamo tutti amici qui. E dovreste andarvene da casa mia, perché casa mia... Oddio, stia fermo! Santo Dio, ma da quando su The Sims stanno le pistole? Allora, io... Oddio, mi sta arrestando! No! Ma dove siamo andati? Ma... 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 Scusate, dove siamo andati? Dove mi hanno portato? Mi hanno messo in prigione? Devo stare un sacco di tempo in prigione? È in colpa di Patalesa! Ragazzi, Patalesa mi ha fatta ristare! Patalesa! Abbiamo appena iniziato a giocare! Se io clicco qui... Sono tornato... Perché sono esplosa? Ragazzi, ma che è successo? Non ho niente idea! Vai! Oh, mamma mia, ragazzi! Perché Nico sta piangendo? Nico, che è successo? Triste! Sei triste perché è morto qualcuno? Ma se manco la conoscevi! Ma perché sei triste? Allora, Nico, fai amicizia con Eleda, qua! E non piangere! Eleda, dovresti consolare Nico! Chiedi un consiglio e... Parla della temperatura fredda! Mentre Patalesa dov'è? Patalesa, dove sei? Molto imbarazzata... Per la violazione della privacy! È entrata nel bagno mentre c'era Joe! Patalesa, ma che mi convini! Ma vai a guardare! Che guardona, ragazzi! Questo suona ancora il pianoforte, Joe! Ma senti, ma la smetti! Vai a fare amicizia! Sei una sociale! Allora, vai qui! Guida! Vai in giro! Vai in giro! Ah! Avete visto che lo guida? È bellissimo! No, ragazzi! Che risate! Ma è in una piscina piccola, ragazzi! Sto morendo da ridere, ragazzi! Cioè, è uscita pure dalla piscina, ragazzi! Ragazzi, Patalesa si sta divertendo! A volte ci si diverte con poco! Vabbè che dico, una piscina e una moto d'acqua non è molto poco, eh! Vediamo qui com'è la cosa di pattinaggio! Vabbè, va! Qua di tre non se ne salva manco una, ragazzi! Non siamo capaci manco di pattinare! Però, Joe, dai! Secondo me te la chiami! Io e Sofia siamo un po' impedite! Patalesa deve trovare... Vabbè, Patalesa deve trovare qualche vestito presente Prima che il freddo metta a ripentaglio la sua vita! No, Patalesa! Vai vicino al cammino! Riscaldati! Patalesa, stai per morire! È ghiacciata, ragazzi! E vabbè, voleva... Ma pure lei che va con... Ci sono... Quanti gradi ci sono qua? Cioè, fa freddo! Tu vai nella piscina! Ragazzi, è diventata tutta blu! Guardate! È congelata! Patale, che mi combini! E niente, io mi sono ruzzuliata a terra Anche Sofia si è ruzzuliata a terra Bene, ragazzi! Vediamo, Ele inizia a puzzare Vediamo come cucina Sofia Mi sa che Joe si sta facendo la pipì di sopra Ho questo presentimento Allora, la torta... Oh, ma sta torta non è piaciuta a nessuno! Faceva schifo! E deve fare la pipì Vai a fare la pipì, Joe! Giuro che non guardiamo Noi ci giriamo dall'altra parte Ma che schifo! Guardate qua! Ma è... È vomitevole! Nico, mangia di questo bel piatto di fagioli a luna di notte È bello schifo! Li digerisci dopo domani? Eh... Ele da, manda via Sofia! Vai via dal bagno! Sofì! Insomma, come ragioni? Allora, Sofì Tu potresti dormire Qui Nico, i letti ci sono un po' per tutti Ok, vediamo Primo canestro di Nico Va a segno Attenzione, signori Ele da potrebbe perdere Secondo canestro di Ele da Va a segno Una a uno Secondo canestro di Nico È sbaglia! Vediamo Ele da se indovina Ma non la puoi tirare così, Ele da Una a uno, signori Una a uno Pareggio? Com'è qua? Stando ancora giocando? Due a uno per Nico Ma ha fatto una... Ha fatto una puzzetta! Ele da! Hai fatto una puzzetta! Ma siamo in live! Due a due comunque Ma perché tutti fanno le puzzette? Ho capito che stiamo cenando con i fagioli! Ma pure io ho fatto la puzzetta, raga! Eh, Willy, non sai quello che ti sei perso Ti sei perso... Ti sei perso a Patalesa che entra nel bagno Ma perché Patalesa pure ha fatto una puzzetta? Ma che hanno in questo gioco? Ragazzi, ricordatemi di non cucinare più fagioli su The Sims Perché, raga, cioè... Hanno mandato il gas tutti Quindi, per favore Mai più fagioli Basta, fagioli Mai più Confessa l'attrazione Però mi sa che viene respinta Patalesa è imbarazzata Niente, già la sta snobbando, raga E puzza Gio sta puzzando No, raga Gio non ha ricambiato E quindi, pata Ce l'abbiamo provato Ma Gio momentaneamente non ti vuole Ha detto alle pulizie Cioè, già ha seccato prima ancora di venire a lavorare, raga Cioè, guardatelo Mamma mia Non ti pagano abbastanza Cioè, che faccia, raga? Non lo pagano Abbiamo bisogno di soldi Tipata, ruba gli soldi a sto tizio, qua Tutti, probabilmente Se riesci un po' tutti 33! Ma che schifo! Patalesa, potevi rubare un po' di più Ma che dobbiamo fare con 33? Monete qua Soldini Che dobbiamo fare? Cioè, impegnati, pata Cioè, dovresti impegnarti a rubare i soldi Posta, me la voglio vedere, raga Oddio, ma c'è pure il sangue Questo gioco era un gioco family friendly una volta Basta, patalesa Ma come? Ha aumentato l'amicizia pure Cioè, tu le picchi, quello si sente Ah, poverino, zoppica Sta zoppicando Poverino Oddio, ragazzi, gli abbiamo fatto gli occhi neri Patalesa, sei un mostro Sei un mostro, pata Ragazzi, siete violenti in questa casa? No, dobbiamo essere un po' più tranquilli Cioè, noi siamo... Ora dorme, ora dorme Lei dorme Prima ammazza le persone Grazie per la compagnia Tipo pestato a sangue Non c'è di che È stato un piacere Torna quando vuoi Torna quando vuoi, Justin Io sempre in mutande Ho qualche problema Perché non so stare con i vestiti Eccolo, ok, qui Sono pronta Ho trovato i granelli Consegno i granelli Ragazzi, sto per diventare Una maga Quindi posso usare la magia? Voglio usare la magia Cucina, maccheroni e formaggio Perché dovrei cucinare i maccheroni e formaggio In un pentolone? Non ha minimamente senso questa cosa, ragazzi No, guardate che figata Ma non abbiamo la bacchetta Voglio la bacchetta Ciao, Gloria Alla prossima Mi spiace, già sono più forte io No, mi ha battuto Alla fine già mi ha battuto Si sono baciati Oh, mia idea Ragazzi, i cuori in chat Voglio i cuori in chat Però non si fidanzano È stato solo un bacio Certo, ci credo Gio, ti sei fatto corrompere dalla moto d'acqua Di la verità Ti sei fatto corrompere dalla moto d'acqua Cioè Ti sei fatto corrompere, Gio Vergognati Solo perché ti ha regalato la moto d'acqua Offri una rosa Guarda Guarda, guarda un po' come siamo Certo, raga Vi regalano la moto d'acqua A me me lo dite Oh, ma Sofìa sta morendo Raga Aiutate Sofìa Qualcuno deve aiutare Sofìa Ragazzi, Sofìa è morta Sofìa No, raga Aiutatela È morta annegata Come si può morire annegata su di Sims? Ragazzi Andate ad aiutare Sofìa Andate ad aiutare Sofìa Sofìa Ma com'è possibile che è morta in piscina annegata? Quelli fanno fichi fighe e qua la gente muore La casa Mi piace il commento di Elena Di Elena Dalla casa tenata a Genio Ma Aiutatela Ma qualcuno la tira fuori dall'acqua Comunque se imploriamo la morte Può Implora per Sofia Dobbiamo implorare la morte ragazzi Magari la risparmia Implora Implora Implorate ragazzi Dobbiamo implorare per Sofia Magari la risparmia e la riporta in vita Cioè comunque nessuno l'ha uscita dall'acqua La prego Ah Sono ancora in vita Oh pare Proprio di sì Immagino che sia merito tua eh Grazie infinite Dico sui stagli accidenti Ci è mancato poco Te ne saranno riconoscente per sempre Forse è tornata in vita raga Sofìa è stata riportata in vita Le richieste appassionate di lightning Altri stimentitori Devono aver funzionato Oh mio dio Oh mio dio ragazzi Sofia Per favore Non usare mai più in questa piscina Sofia Mi hai fatto prendere un colpo Sofia esci da questa piscina E non entrarci mai più Per favore Sofia Mio dio Sofia Mira Elida Perché stai piangendo Elida Per aver assistito alla morte Ma è tornata in vita Si è tornata in vita Non è morta Oh mio dio E' tornata in vita E' tornata in vita